traffico, di inquinamento, perché questo poi possono andare a incidere anche sulla percezione di quella iniziativa e di quella destinazione. Inutile pensare a tutta l'accoglienza e poi magari uno non trova il parcheggio, è nel traffico, nel rumore. Ok, questi sono ora, queste le passeremo un attimino velocemente. Quindi concetto di prodotto turistico globale, quindi io prendo, immaginatevi ora lo vedete già qua, così ve lo faccio un attimino vedere, prodotto turistico globale cosa c'è? Gli elementi di attrazione centrali, quindi gli aspetti naturalistici, se sono a Firenze saranno quelli culturali architettonici, se sono sulle Dolomiti saranno gli elementi naturalistici, se sono in una località balneare sarà il mare e la natura che c'è intorno, se si tratta di un'iniziativa di cibo sarà il cibo prodotto tipico con la tradizione gastronomica, il vino eccetera e le cose intorno. Più ci sono i servizi e le facilities presso la destinazione o il transito, quindi i mezzi di trasporto dei elementi per raggiungere quella destinazione, l'immagine e l'informazione. Mentre il prodotto turistico specifico è un po' questo, però è più concentrato, core service, servizi accessori e periferici. Come vedete è questo, no? Quindi immaginatevi di avere un nucleo centrale che è l'aspetto principale e mano a mano ci si allontana con tutti quelli che sono i servizi strettamente connessi, servizi connessi ma che lavorano più in autonomia, quelli offerti dagli altri operatori e poi l'ambiente e le infrastrutture, perché anche questo vuol dire che io posso essere la realtà privata o pubblica più competente, faccio un'iniziativa top stratosferica, però i mezzi di infrastrutture, le strade di quella località che non dipendono da quell'ufficio, da quell'azienda, sono pessime, non ci sono parcheggi, non ci sono mezzi di trasporto, oppure l'ambiente è sporco, cioè si tratta di altre, non riesci a governarle, mai a che fare, devi tenerle in conto perché incideranno sulla percezione e la fruizione del tuo servizio. C'è qualcun altro che intanto si è entrato? Buongiorno, scusate c'è una persona. Salve, buongiorno. Allora, Federica, buongiorno. Buongiorno. Ben arrivata. Ah, grazie. Salve. E velocemente, vuole un attimino presentarsi, che noi abbiamo già iniziato da poco più di una mezz'ora. Sì, e io ero in un'altra riunione, quindi... Salve, se tu vuole informatici. Allora, mi occupo di certificazione dei sistemi informatici. Ah, ok. E faccio praticamente consulenza per un ente di certificazione che è DNV, e mi interessava questa, questa, diciamo, presentazione per un'altra attività collaterale sulla quale sto facendo una creazione di impresa nuova. Quindi, sono due attività che ho in parallele. Va bene. Niente, io mi presento, appunto, mi occupo di marketing turistico e territoriale, velocemente per non togliere troppo tempo all'inizio, insomma, a questa riunione. Ho dato una panoramica, intanto, sull'andamento del turismo a livello internazionale, italiano e toscano, pre-covid e più recente. Ho sottolineato l'importanza di gestire, avere consapevolezza degli andamenti, delle presenze, degli arrivi, nei mesi o negli anni, nelle aree in cui si opera, o comunque nei mercati di riferimento. Questo è importante per pianificare bene. Ho definito il concetto di impresa turistica con le sue caratteristiche. Adesso siamo sul discorso del prodotto turistico. Qui fa vedere un attimo il nucleo centrale che è il core business di un'azienda, di un'impresa, di un prodotto e poi mano a mano i servizi strettamente connessi, meno connessi, poi quegli offerti dagli altri operatori che contribuiscono poi all'offerta del prodotto turistico e alla sua percezione e fruizione. Io vado avanti, se poi avete domande, ovviamente sono qua. Quindi vedete com'è complesso, c'è qui c'è sopra un territorio con il turista, interagisce, il territorio offre un qualcosa, il turista acquista o consuma quel qualcosa ed è in cui che c'è interazione tra il turista e il territorio e si arriva al prodotto turistico globale. Questo è il concetto di turista che non ci sto a ritornare sopra, ma l'avevo accennato prima, che è chi per notte sta più di 24 ore in un luogo diverso da quello di residenza, qualunque sia il motivo, ovviamente in molti casi è per divertimento, ma sicuramente ha un indotto poi economico anche sul luogo di destinazione, l'escursionista è quello che nelle 24 ore, come dice il consumatore flugale, torna poi nel luogo di residenza e anche questo può essere un'escursionista per motivi di lavoro o di vacanza, di viaggio eccetera. Ovviamente in ora si parla più di turista. Allora, come si collega poi il marketing? ed è qui poi, no, che c'è l'interesse a questo seminario. Scusate, mi devo, scusate. Ok. Allora, allora, a me qua piace inserire il concetto di marketing perché, fatto questa panoramica, il marketing è una delle leve strategiche più importanti, direi, all'interno di un'azienda, dall'interno di un ente pubblico se si vuole avere dei risultati. Quindi marketing è strategia, ok? Marketing, come vedete e vedrete, non è assolutamente una cosa semplice. Il marketing è una cosa che è basata sui numeri, sull'analisi, che incide sulla determinazione, l'ideazione del prezzo di un'attività, di un servizio, che incide sulla sua promozione, la sua distribuzione, che incide sulla comunicazione dell'immagine dell'azienda, dell'ente che produce, organizza quel prodotto e del prodotto del servizio stesso. Ovviamente parlo di prodotto, prodotto turistico, ok? Quindi è una leva fondamentale, aziendale, spesso sottovalutata, ma in realtà è molto più importante di altre. È un po' al pari di un ufficio produzione, no? Che produce, cioè è un po' come dire, io produco la Ferrari, sono la Ferrari che produco un nuovo modello di Ferrari, è importantissimo che l'ufficio progettazione, ingegneria, eccetera, lavori al meglio per dare un prodotto ottimale, all'avanguardia, che funzioni, che non abbia difetti, ma se c'è e sta lì e non c'è un ufficio strategico e marketing per promuoverlo, se ne ottengono pochi risultati, ok? Quindi è al pari, spesso lavorano insieme, cioè devono lavorare insieme in sinergia, in forte comunicazione e coordinamento. L'obiettivo cos'è? È creare uno scambio tra imprese e mercato e creare, diciamo, dei prodotti che soddisfano le imprese, nel senso che ti danno un ritorno economico e soddisfano il mercato, quindi il cliente, in modo da fidelizzarlo, da diffondere quella che è l'immagine e ora lo vedrete. Allora, il marketing può essere, ovviamente io parlo, fermatevi perché io vado a raffica, cioè ne ho mille di cose da fare, il tempo è, e ci ne avrei ancora tanto di più, quindi sto concentrando, ma, cioè, si può togliere spazio un minuto su una cosa e approfondire un'altra, se avete dubbi, se non vi è chiaro, se dico cose che già sapete, le schifo, ditemele. Quindi qui ci sono due aspetti diversi del marketing, cioè il marketing strategico è quello, è un po' come vi ho detto prima, cioè analizzare in maniera sistematica i bisogni del mercato, sviluppare nuovi prodotti che siano competitivi rispetto ai concorrenti e che abbiano elementi distintivi, creare un vantaggio competitivo, pianificare in qualche modo la strategia, dove voglia andare, la vision, la mission, gli obiettivi, e invece poi c'è il marketing operativo che è quello che attua concretamente ciò che in fase strategica si è definito, ok? Quindi ovviamente guardando un po' più in maniera applicativa al mercato. Quindi il marketing strategico dirà che voglio ottenere un obiettivo di centomila visitatori con 10% con la comunicazione dei budget, 5% sulla stampa, 10% su questo, eccetera. Avere un prezzo medio X piuttosto che avere una vision che mi dà un'immagine di tutela ambientale, oppure riposizionarmi sul mercato perché sono un hotel vecchio che non ho più un'immagine che è adeguata al mercato, quindi voglio rinfrescare la mia immagine, quindi oppure incrementare la notorietà della mia struttura. Queste sono scelte strategiche. Poi per attuarle arriva il marketing operativo che quindi organizza la parte anche di commercializzazione, inizia a realizzare effettivamente dei Deplian, pianifica le attenzioni, pianifica le azioni sui siti, sul web, eccetera, e quindi cerca di far conoscere l'azienda presso i clienti. Quindi vedete, da una parte c'è, come vi ho detto, bisogni, mercato segmentato, l'analisi di attrattività e di competitività, che vedremo, la scelta di una strategia di sviluppo. Di là c'è più le leve operative di marketing, quindi agire sul prodotto, agire sulla distribuzione, sul prezzo, sulla programmazione e fare un programma marketing. Mi sono fermato, scusate perché sono raffreddata. Allora, quindi questa è un po' la pianificazione strategica. E questo, cioè, non è da assalto valutare, nel senso che a volte uno dice, no? Eh sì, lavoro, faccio per il dottor Corsini magari, no? Lavoro in un ente pubblico, tanto devo fare un'iniziativa X, che ne so, la sagra, oppure il concetto... In realtà è importante capire quali sono gli obiettivi e i mezzi con cui si vuole raggiungere determinati obiettivi. Quindi avere una vision magari del reparto dell'azienda. Quindi capire gli obiettivi, capire quali sono le azioni da intraprendere per raggiungerle e quali sono le risorse necessarie o comunque anche quelle che ho a disposizione da poter usare e definire in questo modo una vision e una mission, ok? Quindi pianificare. Ovviamente sono cose che devono essere sempre rivisitate. Cioè, non è che io definisco oggi una vision, una mission degli obiettivi e li tengo lì per dieci anni. Periodicamente, ogni anno, ogni fine anno devo ripensarci, rivalutarli, poi posso confermarli oppure cambiarli del tutto o in parte, no? Anche le azioni, anche al raggiungimento dello stesso obiettivo, possono cambiare quali azioni, perché all'inizio, il primo anno, posso fare delle azioni che poi il secondo, per il raggiungimento dello stesso obiettivo dell'anno prima, possono essere diverse. Gli è chiaro questo? Elia? Federica? Ci siete? Sì. Ok, ok. Ok. Gli esempi, magari. Costruzione del prezzo di un servizio, eccetera. Più avanti. Allora, qua, dunque, praticamente qui c'è un po' il concetto di vision e di mission. Qualcuno di voi mi vuole provare a spiegare qual è la differenza? Credetemi che non sono cose banali. Sono cose fondamentali da aver ben chiare all'interno di un'attività. Cioè, magari, per esempio, io immagino Corsini o Marini, se sono dipendenti, diciamo, no? Di una realtà più grande, hanno un loro reparto di riferimento, dove lavorano. Però sapere la vision e la mission del proprio reparto, la vision e la mission della struttura in cui lavorano, è importante. Perché consente di fare azioni che sono in linea con, poi, con le azioni di vision aziendale più grossa. Comunque, ecco, la vision consente, è un po' cercare di guardare lo scenario futuro dell'impresa, definendone gli obiettivi a lungo termine, i valori che si vogliono. Quindi, ovviamente, deve tener conto, ecco, che vi dicevo, dell'andamento del mercato. E quindi, come vede, vedete, devi anche definire quelli che sono dei tempi per realizzarlo. Ok? La mission è più, e dopo lo vedremo, è più, raggiungo, cioè io voglio avere la missione, in qualche modo, di avere un'immagine che è più orientata all'ambiente, alla tutela dell'ambiente, al sociale. Questo è più una, e è a più breve termine. Allora, del marketing, che può essere applicato a tante attività, c'è il marketing turistico, che è quello che, ovviamente, è applicato al turismo, sia che può essere attuato da operatori pubblici, come nel caso di ministeri, enti, emit ed altro, sia da realtà private, che possono essere grosse aziende, ristoranti, agenzie di viaggio, strutture ricettive. Ok? E, ovviamente, come vedete qui, dice, iniziative, azioni di marketing e di comunicazioni attuate da vari player del settore, per attirare nuovi clienti o mantenere quelli in essere. Allora, qua, il perché. Perché il turismo è recente, è un turismo, è un fenomeno complesso, offre prodotto intangibile e perché, diciamo, è più colpito di altri, come vi dicevo, dalla parte digitale. Allora, vi faccio un esempio, secondo me così, un attimino ci stacchiamo un attimo e vi faccio vedere questo video. Vediamo un attimo se riesco a farvelo vedere. Un attimo se riesco a farvelo, un attimo se riesco a farvi vedere. Ormai non viene. No, no, mi da Bing. No, io Bing non lo voglio. No, ora, questo mi dispiace. Comunque, se volete, per non perdere troppo tempo, comunque, se volete, potete andare su questo sito che è Italia.it che fa vedere il video proprio dell'Italia, che è uno spot portato anche dall'Enit, secondo me è molto, molto interessante. E allora, vado avanti. Allora, il piano di marketing turistico, dunque, è un processo che va ad ottimizzare la definizione di prodotti, di comunicazione, di commercializzazione, deve essere sviluppato sia a livello di prodotto in una logica di marketing integrata. Quindi, come vi dicevo prima, è necessario avere una forma di cooperazione tra le varie parti sociali interessate nell'offerta del prodotto turistico. Allora, ecco qua un attimino quelle che sono le varie fasi operative del piano, ok? Quindi, io voglio sviluppare, svilupparmi a livello turistico, quindi analizzerò la mia situazione e quella dei concorrenti, analizzerò la domanda attuale e potenziale ai vari segmenti e definirò gli obiettivi di sviluppo. Cioè, io dico, voglio crescere del 10% di fatturato in un anno, due, tre. Oppure, non è quello, ma voglio incrementare la notorietà della mia immagine, oppure fidelizzare i turisti, oppure incrementare il mercato internazionale perché quello interno ce l'ho già. Queste sono le definizioni degli obiettivi. E poi dovrò decidere sia i prodotti da realizzare, da diffondere, che i segmenti in cui operare. Quindi il mercato, immaginatevi, è una palla, è un cerchio. Io segmento questo mercato, lo divido in base a delle caratteristiche che accomunano alcune di queste aree e individuo uno, due, tre segmenti in cui operare. Quindi ci sarà il segmento della scuola, il segmento degli stranieri, il segmento delle famiglie, oppure il segmento dei single, eccetera. capire il posizionamento che voglio avere. Cioè mi voglio, per esempio, dico, decido un posizionamento alto, cioè io voglio essere di nicchia nel mercato di lusso, voglio avere un'immagine stra elegante di lusso, con prezzi elevati, eccetera. Rappresentare il lusso, il benessere, voglio essere più una cosa apportata di chiunque, a più basso prezzo, easy, low cost, eccetera, e decido gli obiettivi e le strategie, in questo caso a medio termine, per ognuno di questi. E poi, per esempio, ecco, questi sono degli esempi, no? Cioè io voglio diventare più competitivo rispetto all'offerta, decido delle linee su come aumentare la mia competitività. Voglio incrementare invece la parte di promozione, quindi programmerò la commercializzazione e la comunicazione dei miei prodotti e dei miei servizi. Analizzerò la parte delle risorse, perché è inutile, no? Ipotizzare grandi piani e grandi cose se poi non ho le risorse, sia finanziare, quindi di budget, quali sono, per quanto tempo, come sono suddivise, eccetera, cosa posso usare, per quale azione, sia organizzativo, quindi anche lo staff, piuttosto che, diciamo, le risorse umane che possono contribuire a raggiungere quel programma e quell'attività, devo sapere, perché se io ho tutti ingegneri, ma mi servono esperti di economia, se io invece ho due persone che mi fanno mille cose, io voglio fare un piano di sviluppo, ho bisogno di altre persone, vorrei dire che devo assumere, quindi avere questo quadro e poi ovviamente dare una priorità di interventi e di azioni e monitorare sempre. Una cosa fondamentale nelle attività economiche tutte, nel marketing in particolare, è monitorare continuamente, quindi non lasciare, cioè se io ho un obiettivo di un anno, non lascio una campagna andare avanti un anno senza dopo un mese monitorare, io ogni mese, ogni tot farò un report, vedrò come sta andando e dove sto andando, perché in questo modo mi riduce il rischio di impresa e io posso eventualmente ritarare eventuali azioni, quello che è possibile, cioè immaginate di fare una campagna marketing, spendendo decine di migliaia di euro su varie leve e io inizio a utilizzarle tutte. Cioè l'errore umano e l'errore di imprese, il rischio, ci sta, cioè va tenuto in conto, ma l'intelligenza, la strategia e l'intelletto umano sta nel poterle monitorare e ridurle, quindi se io lascio andare per la campagna e per un anno arrivo in fondo e ho fatto un blob, diciamo che sono un po' poco intelligente per non dire altro. Se io ogni mese monitoro l'andamento di quella campagna e di quell'azione riesco a vedere se a quel 30 di giugno e poi al 31 di luglio eccetera per il momento sto avendo i risultati che voglio. Se sono in linea proseguo, se c'è un qualcosa che non mi dà quello che voglio, vedete definizione del controllo dell'efficacia di intervento, se non mi dà quello che voglio, dove posso, posso raddrizzare. È chiaro se ho già impiegato tutto, non posso, ma se c'è una cosa che non mi funziona posso cercare di agire per modificare e rindirizzarmi. Questo va fatto periodicamente, va fatto poi a fine anno, quando una campagna, un'azione, un progetto, per esempio, come nel caso di Forzini o d'altro, viene realizzato e poi concluso, arriva in fondo, guardo i risultati, guardo come ha funzionato una comunicazione, guardo il numero di presenze, il numero di arrivi, quali servizi hanno funzionato di più, il budget, gli scostamenti, per avere le informazioni necessarie l'anno successivo per fare anche meglio, ok? E non sprecare risorse.